Buon inizio di anno scolastico a tutti, agli studenti dell'Istituto di istruzione superiore Pomponio Leto di Teggiano, ovviamente, ma anche a tutti gli altri studenti che frequentano le scuole del nostro territorio. Una scuola che da quest'anno si frege della certificazione di qualità e che si distingue per la presenza fra i propri banchi, tra i banchi della scuola, di tanti studenti di nazionalità straniera. In provincia di Salerno siamo tra quelle non molte scuole, per la verità, che annoverano un maggior numero di studenti stranieri iscritti presso la nostra scuola tramite i progetti Intercultura, ma anche tramite le tante agenzie educative e culturali presenti sul nostro territorio. Io sento veramente davvero forte l'orgoglio di dirigere una scuola che accoglie, una scuola dove l'integrazione è la nostra parola chiave, dove la diversità rappresenta un patrimonio da custodire e da diffondere. Il Santo Padre Papa Francesco, in più di un'occasione, rivolgendosi alla scuola, ha detto «Insegnate la solidarietà». E' questa la nostra rotta. Noi, come Istituto di Istituzione Superiore qui a Tegiano, saremo attenti a non deludere i nostri allievi e le loro famiglie. Assieme a loro, assieme agli studenti e alle loro famiglie, saremo impegnati a realizzare dei progetti che amplino la nostra offerta formativa, tesi a consegnare alla società uomini e donne liberi, competenti, capaci di affrontare le sfide e le difficoltà che la vita proporrà loro in futuro. Presso la nostra scuola qui di quest'anno attiveremo tantissimi progetti, ma le nostre energie saranno maggiormente tese e dirette a realizzare il progetto pilota, il progetto più importante, che è il progetto scuola. Il nostro moto da quest'anno, il moto del Pomponio Leto, è un percorso per ognuno, un traguardo per tutti. E' questo l'impegno che io personalmente ho assunto da quando ho iniziato il mio percorso di dirigente scolastico. Qui da noi nessuno deve sentirsi escluso, ognuno, ed è ciò che ci auguriamo, deve essere messo in condizione di individuare il suo percorso da seguire. Certo, a scuola si viene per studiare perché solo studiando si impara, solo studiando si conosce, solo studiando si acquisiscono le competenze, solo e soltanto lo studio rende gli uomini davvero, davvero liberi. E questo i nostri studenti sicuramente lo sanno. Io ho fiducia, ho tanta fiducia nei miei studenti, con loro ci incontriamo ogni mattina, ci incontriamo spesso, parliamo spesso di questo. Loro sanno bene, i miei studenti sanno bene che oggi nella società attuale non c'è spazio più per la mediocrità. Oggi bisogna mirare all'eccellenza e questo, ripeto, i nostri studenti dei nostri tanti licei presenti all'Istituto di istruzione superiore di Pomponione lo sanno benissimo, per questo hanno scelto questa scuola, per questo hanno scelto la loro scuola. A tutti loro una promessa. Noi cercheremo di intercettare i loro sogni. Noi cercheremo di intercettare le loro speranze, cercheremo di intercettare le loro aspirazioni. Loro hanno diritto di sognare e noi cercheremo di intercettare anche i loro sogni, con l'intento di non deluderli. Ce la metteremo davvero tutta sicuri di avere dalla nostra parte loro e le loro famiglie.